Qualche minuto con i giovani del collegio navale della GIL a Venezia. Il leone di San Marco domina i modernissimi e vasti edifici che accolgono questi marinai di domani. È l'ora delle lezioni. I giovani vi si recano inquadrati. Il capoclasse ordina l'attenti all'ingresso del docente e presenta la classe. La scuola comincia. Le lezioni sono terminate. In pochi minuti gli allievi sono già pronti per l'addestramento ginico, marinaro e militare. Di corsa verso i campi sportivi. Un lancio collettivo di Giavellotto eseguito magistralmente. In gara nella corsa ad ostacoli. Sul mare. Esercitazioni al remo e alla vela. Una doccia ristoratrice dopo le rudi fatiche marinare. Pronti per l'addestramento militare. Le classi sfilano al passo romano. Un lancio collettivo di Giavellotto. 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 Un lancio collettivo di Giavellotto.